Una bugia è una bugia. Solo perché viene diffusa e chiamata storia, non diventa verità. Viviamo in un mondo in cui credere non significa credere. Siamo in fuochi a sapere cosa è successo veramente. Viviamo in un mondo in cui tutto ciò che conosciamo è falso. Siamo in un mondo in cui credere. Siamo in un mondo in cui credere.